Gli USA hanno imposto sanzioni a cinque entiti iraniane per il loro coinvolgimento nello sviluppo di missili balistici. Le sanzioni non sono legate alle proteste in corso in questi giorni nel paese. Ma il segretario al tesoro, Stephen Amnoukine, ha annunciato che arriveranno provvedimenti contro le violazioni dei diritti umani. Le enti colpite sono filiali del Scheidback Air Industrial Group. Parte del Ministero della Difesa di Teheran.